La concessione della peschiera Le Capore continua a tenere banco. In merito è intervenuta anche l'associazione Codici Rieti che non ritiene legittima la recente delibera della Regione Lazio. Diverse le motivazioni per il coordinatore Antonio Boncompagni. In primis la quantificazione del ristoro e il fatto che non andrebbe a tutelare le aree sorgive visto che esclude di massima i comuni a bocca di sorgente come Città Ducale e Casa Prota, una delibera da noi ritenuta sterile. A riprova sta il fatto del mancato ristoro dei primi 8 milioni previsto entro il 30 giugno 2016. Le domande sorgono spontanee. Chi è il concessionario delle sorgenti Le Capore Peschiera? Ed ancora la Regione Lazio può disciplinare i rapporti tra Ato 2 e Ato 3 senza prima aver rilasciato la concessione? Domande queste che rivolgeremo a breve alle autorità di competenza visto il silenzio della politica. Bravi i sindaci che andranno al Peschiera. Come ex assessore ricordo con amarezza e silenzi da destra e da sinistra di ieri quando solitario chiedevo il rispetto della delibera del 2006 che oggi avrebbe maturato ben 105 milioni di ristoro per il territorio reatino. E non credo giusto coagularsi tutti contro la neo sindaco di Roma Virginia Raggi che quasi sicuramente in considerazione dei tempi tecnici ha disposto atti già pronti. Non ci sarà una regia anti grillina anche in vista delle prossime elezioni a Rieti? Un'ultima domanda sul piano amministrativo ha concluso Boncompagni. Quali azioni ha intrapreso il presidente della provincia di Rieti Giuseppe Rinaldi a seguito di una certa comunicazione ricevuta nell'aprile 2015 riguardante il presunto danno errariale collegato al mancato rispetto della delibera regionale del 2006, quella dei 105 milioni? Un'ultima domanda Un'ultima domanda Si è chiusa con la tappa retina del tour, terra in vista del reatino Raffaello Simeoni e Massimo Giuntini con DJ Pietro Pinconsole nell'Osteria delle Stelle la quinta edizione della manifestazione Osterie dei Pozzi. Come da tradizione tanta buona musica ed enogastronomia per la kermesse estiva organizzata dall'associazione Sunshine che da anni ogni estate porta alla riscoperta uno degli angoli più suggestivi della città. Un saluto a tutti, questa bella festa che ci sono parecchi banchi che vendono la roba, abbiamo preso una birra a alto livello, come? Alta quota? Alta quota? Alta quota che poi fa girare, allora perché ti embriaga, allora alta quota. Tre serate ed un percorso lungo un chilometro nelle varie osterie dislocate in diversi punti nel tratto che da Porta d'Arce, fiancheggiando il corso del fiume Velino, giunge fino all'inizio di via San Francesco. Degustazioni di pizze fritte, penne con zucchine guanciale, gnocchi con il castrato e arrosticini di pecora fino alla panzanella e al maialino arrosto. Soddisfazione piena da parte dell'organizzatore Carlo Luciani. Siamo molto molto contenti, quest'anno è stata un'edizione molto particolare e difficile per noi organizzatori, però siamo molto soddisfatti. Una cosa, chiedo scusa a tutti i residenti dei via di Pozzi perché abbiamo invaso questa via da 3-4 giorni, quindi purtroppo tanta gente, tanta confusione, tanto divertimento. Però spero che sia piaciuta a tutti. Lo schema di convenzione che secondo Melilli, Zingaretti, Refrigeri, Rinaldi, Petrangeli e pochi altri consiglieri avrebbe dovuto consentire un ristoro economico milionario di portata storica ai comuni del lato 3 di Rieti è in realtà un blef. Così l'associazione Rieti Virtuosa è intervenuta sulla vertenza acqua. Lo avevamo detto e tale si è puntualmente dimostrato. Infatti la delibera regionale del 17 maggio scorso che approva tale convenzione è già di per sé inattuabile a prescindere dai ricorsi. Qualcuno ha infatti forse visto la famosa prima rata di milioni di euro che avrebbe dovuto essere incassata il 30 giugno 2016? Entrando nel merito hanno proseguito da Rieti Virtuosa. Non è un caso che siano ben quattro ricorsi al TAR dei comuni di Casaprota, Città Ducale, Acea e Ato 2 Roma contro una delibera che presentava diverse criticità. Anzitutto se la legge vigente dice di definire prima gli ambiti di bacino idrografico e poi gli schemi di interferenza, perché invertire l'ordine sapendo che in qualsiasi momento la regione potrebbe addirittura riunire i comuni del lato 2 e del lato 3 in un unico ambito di bacino idrografico, pensate sia una casualità o piuttosto una trappola? È la regione che ben prima di stabilire gli schemi di convenzione ha in mano il potere e dovere di legiferare, pianificare e rilasciare concessioni di grande derivazione. Ma la regione Lazio non ha né legiferato, non ha pianificato, non ha rilasciato né stabilito chi avesse diritto a richiedere la concessione del peschiera ed è proprio quest'ultimo il secondo profilo di legittimità. Non sarà che si sta manovrando tutta la campagna mediatica sulla vicenda semplicemente per tirarla a lunga il più possibile al ridosso delle prossime elezioni amministrative a Rieti e raccogliere i frutti di questo sdegno pilotato? Non sarebbe più onesto organizzare una manifestazione in regione come suggerito dal sindaco di Castel Sant'Angelo, giusto per mirare al bersaglio? La richiesta da porre è semplice, hanno concluso da Rieti Virtuosa la regione, annulli la delibera facendo intanto risparmiare le spese legali per l'ennesimo contenzioso a carico dei contribuenti e intraprenda tutte le azioni legislative e deliberative che gli competono per risolvere la questione rispettando le norme. Si è tenuto oggi in comune il tavolo di confronto tra istituzioni, organizzazioni sindacali, lavoratori e parti datoriali per una verifica sullo stato di agitazione dei lavoratori licenziati a seguito dell'accessazione dell'attività del supermercato Leone di Via delle Scienze, nonostante la riapertura nello stesso sito di un nuovo punto vendita con marchio LeMarc. Presenti per il comune di Rieti il sindaco Simone Petrangeli, per il comune di Gita Ducale il sindaco Roberto Ermini e il vice sindaco con delega alle attività produttive Daniele D'Angeli, per le organizzazioni sindacali Walter Filippi, per la Film Camps CGL Rieti e Pietro Feliciangeli per Will Tux Rieti e due rappresentanti dei lavoratori. Assenti le due aziende interessate, Antares, SRL e Ex Leon, per l'impossibilità dei suoi rappresentanti a partecipare al tavolo ma con la confermata disponibilità a un confronto dopo il 15 agosto. E' convenienza adesso SRL, proprietaria del nuovo punto vendita con marchio Le Marche che ha inviato una nota dichiarando la propria estraneità alla vicenda ritenendo non dovuta la propria convocazione al tavolo. Dal confronto è scaturita una linea condivisa sulle azioni da mettere in campo ciascuno per la propria competenza, con l'obiettivo comune di reintegrare i lavoratori licenziati anche in relazione alla piena disponibilità manifestata dai sindacati di categoria e confederali a ricercare insieme ai lavoratori e all'azienda tutte le soluzioni consentite dalla legge per un loro reinserimento anche attraverso la fruizione degli strumenti di politiche attive per il lavoro messo in campo dalla Regione Lazio. Per il raggiungimento di tali obiettivo tutti i presenti ribadendo la necessità della presenza al tavolo delle aziende coinvolte al di là dei formalismi che possono giustificarne l'assenza hanno congiuntamente convocato Convivenza Adesso SRL il cui ruolo ai fini della soluzione dell'avvertenza resta fondamentale per lunedì 22 agosto alle 12 in comune.